Non ho vendemmiato 18 ettari di vigna su Adria Campriano dove ho la riserva di caccia, ma anche qua vengono e mi fanno danni anche a San Fabiano. È ormai insostenibile la presenza di ungulati, in particolare cinghiali, nel territorio toscano. I produttori agricoli lo denunciano da sempre, la soluzione secondo le associazioni venatorie è una sola tornare a cacciare imbraccata. Tanti cani, tanti cacciatori alle poste, un'organizzazione, un'esperienza, una capacità di gestire questa forma di caccia, da questa vengono i risultati, non dalle improvvisazioni. La caccia di selezione, vediamo l'esempio del capriolo, ha portato all'aumento esponenziale del numero dei caprioli. I numeri parlano chiaro, dopo l'introduzione della legge obiettivo da parte della regione toscana, i 9.000 cacciatori di selezione hanno abbattuto solo quasi 5.000 esemplari. Il patrimonio toscano è valutato su 200.000 capi di cinghiale e su 250.000 degli altri ungulati, gli ungulati cosiddetti ruminanti, cioè caprioli, cervi, daini. Animali nel bosco adesso non ci stanno più, per cui se razionalmente fossero governati, una grandissima maggioranza di essi sarebbe felicissima di stare lassù perché non incorrono nei pericoli e nelle problematiche della pianura. E dopo l'invito a rivedere la legge obiettivo, una sorta di sciopero della doppietta. L'associazione Futur Caccia ha sospeso in maniera categorica la possibilità da parte delle squadre di cinghiale e di intervenire con l'articolo 37 sia in girata che in braccata, fino a che non c'è qualche modifica di questa famosa legge obiettivo.